Oggi ho incontrato un mio conoscente, veneto lavoratore. Come stai? Bene. Cosa fai? Bah, non lo so, e tu? E lui mi ha risposto, io sono in pensione. Oggi sono contento perché sono riuscito a trovare un loculo libero in Camposanto. Ma io ho strabuzzato gli occhi, gli ho detto, ma per chi, per che cosa? Perché un loculo in Camposanto? E lui mi ha risposto, ma per me, per me, così adesso sono a posto, adesso sono tranquillo. E ti, rivolto a me, e tu cosa fai? Dico, io sto ancora pensando a cosa farò da grande.